Non è esperma lo giuro mi sono bruciato Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di The Mighty Quest for Epic Loot Voi stai dicendo mamma mia che gioco è Praticamente vi ricordate quando sono andato a pari... Intanto guardate il mio dito bello bianco, questo è il dentifricio, mi sono bruciato Quindi giocherò senza un pollice e dovrò tenere il mouse così guardate Così Per non sporcarlo, quindi non so come cazzo riuscirò a giocare Comunque noi ci proviamo Questo è il mio gioco che ho provato a Parigi tantissimo tempo fa Se non sbaglio a settembre Quando appunto sono andato al Digital Days Ubisoft Gioco che dovevo provare solo che poi Era in closed beta solo che Non ho avuto più la cosa di provarlo Quindi adesso che è diventato open beta abbiamo l'opportunità di giocarci tutti Quindi voi potreste cliccarlo gratuitamente da Steam o da Uplay Basta, quindi adesso sostanzialmente così fa nel gioco Noi possiamo attaccare o difendere In difesa dobbiamo costruirci il nostro castello Quindi adesso ve lo farò vedere Il mio castello è una merda perché ancora sono a livello 2 L'ho installato ieri pomeriggio a sto gioco Quindi non farò niente In questo video però andrò ad attaccare Cosa si fa quando si attacca? Quando andremo ad attaccare Andremo a visitare i castelli degli altri E appunto a prendere il loro bottino Ovviamente ogni castello ha un differente livello E quindi sti cazzi no? Adesso andiamo a fare un castello Noi siamo a livello 2 Andiamo in un castello di livello 2 Ovvero Snutter Hat Ok, in questa schermata ci dice Cosa andremo a conquistare Ed entriamo nel castello Ovviamente quando entriamo nel castello Avremmo anche Dei mostri da combattere Comunque delle trappole Che ci impediranno di arrivare al castello Cioè al bottino scusate Ovviamente come vedrete in basso 1, 2, 3 Tasto sinistro del mouse Ecco Abbiamo delle spell che possiamo utilizzare Per appunto sconfiggere questi mostriciattoli Man mano che andiamo giocando Boh, si era chiuso il gioco Man mano che andiamo giocando Abbiamo la possibilità di trovare a terra Ora come vedrete adesso Ho trovato un copper ring Abbiamo la possibilità appunto Di trovare a terra degli oggetti Da poi equipare Che è sta roba Ok La cosa bella di questo gioco È che praticamente In ogni castello Troviamo mostri diversi Perché come mi ricordo Mi avevo detto al Digital Days Ci sono una varietà Praticamente infinita di mostri Che possiamo Mettere all'interno del nostro castello Appunto per evitare Che ci saccheggino insomma È un gioco molto bello Diverso dai soliti giochi Mi piace molto Davvero molto molto figo Come gioco E devo ammettere che Al Digital Days Già mi era piaciuto Mi era piaciuto parecchio Anche qui adesso Giocarlo a caso Effettivamente È tutta altra roba E devo dire che mi piace un sacco Quindi il nostro obiettivo Sarà costruire il castello E poi Attaccare gli altri castelli Man mano che Avanziamo di livello Se non sbaglio Abbiamo anche un tempo Perché se noi Non Distruttore Non Diciamo Attacchiamo tutti i mostri Quindi non arriviamo Al tempo Limite Per Distruggere Il bottino Cioè nel senso Allora mi spiego meglio Perché sono concentrato nel gameplay Sto dicendo una maria di cazzata Allora innanzitutto Questo è il boss Perché ogni fine stanza Ci sta il boss Fatemi finire il castello E adesso vi dico Le cose giuste Perché ho detto delle merite minchiate Allora A posto Abbiamo vinto Praticamente Ora posso parlare più decentemente Praticamente Quando entriamo in un castello Si starta un countdown Un countdown Che praticamente Ci consente l'accesso a questa stanza In questa stanza ci arriviamo così Ma se arriviamo Oltre il tempo limit Da questi due scettri Non si apriranno E quindi Quello che abbiamo fatto Sarà totalmente inutile Adesso vi sono spiegato bene A posto Abbiamo fatto il primo castello E ci siamo guadagnati 252 punti esperienza 90 soldi 94 gem Questi soldi Potremmo Andarli a Andarli A sfruttare Con lo shop Che appunto Ci farà comparare Tutte le varie cose In questo momento Ho sbloccato Una nuova Una nuova spell Che andremo a mettere Sul tastino 2 Perfetto Andiamo a farci un altro castello Noi siamo livello 3 adesso Quindi livello 3 Andiamo a fare un castello Di livello 3 Ovviamente Potremmo fare Anzi un attimino Vediamo cosa avevo preso Prima nell'inventario Quindi l'inventario Si apriva Da queste parti Ok Abbiamo un sacco di roba Ok Più 8 magical armor E che più questa Più 10 physical armor Ok Va benissimo Qui ovviamente Possiamo equipare Il nostro Diciamo il nostro Personaggio Per poi appunto Renderlo più forte Andiamo in un castello Di livello 3 Andiamolo ad attaccare Ovviamente Possiamo fare Castelli di livello Più grande Livello più alto Al nostro Ma è sconsigliato Perché se no Falliremo brutalmente Sarà una merda Quindi ogni castello Ovviamente a mostri Differenti E quindi Trappole Differenti Per Per tutto Il discorso Qua Che ci attacca Ma ragazzi Ci sono anche Delle trappole Automatizzate Come vedete Sto coso Che mi sta sputando Le palle Di fuoco Talquanto Incazzare Qua c'è Upupu Che esce Una granfia Perfetto Dobbiamo assicurarci Ogni volta che Uccidiamo appunto I nemici Ovvero Questi cosi Che troviamo in giro Per i castelli Di raccogliere Quello che ci droppano Perché a volte È molto molto Importante E appunto Ci consente Di buildarci Molto molto meglio Allora Stiamo facendo questo castello Castello di livello 3 Qualche parere sul gioco Cazzo Dovevo ammettere Dovevo ammettere Questo gioco a me piace un sacco Perché non ho mai visto Giochi di questo genere Così Soprattutto anche Mi piace molto Per il fatto Della costruzione Del castello Dovevo vedere Dove cazzo Devo andare Ok Devo andare da là Perché noi Ci possiamo costruire Il nostro castello E quindi È molto molto interessante Perché in un centro senso La longevità del gioco È molto molto Ampia Perché Oltre ad attaccare Quindi fare soldi E fare Oddio Quanti cazzo ce ne sono Dai Già più Ok Ok Ho provato il tasto L'ho provato la spell 2 Adesso la provo Che l'ho appena sbloccata Vediamo Ah Pratico Gli dà un calcio Perfetto Ogni spell è divertente Anche da utilizzare Perché fa un qualcosa di differente Comunque anche questo gioco Ha un po' di satira Al suo interno Che non fa Mai male Ok Prendiamo queste Che sono molto molto importanti Andiamo a prendere queste Sono Dei teschi Senza testa Che è interessante Se distruggiamo tutti Se uccidevo tutti i mostri Che sono all'interno di un castello Se non mi ricordo male Prendiamo un bonus In punti esperienza Che appunto ci Ci permette di Di avanzare Oddio Ma qua quanti cazzo ce ne sono Con Q&A possiamo cambiare Ovviamente anche la direzione Della telecamera Per rendere meglio Fluido il gameplay Per Diciamo per sistemare La telecamera Come meglio vogliamo Come ci troviamo più comodi E Diciamo che mi stanno Uccidendo a bestia Quanti ne stanno spaurando Oddio Cioè Praticamente questo è un castello Di livello 3 Cioè Ecco perché vi dicevo Dovete entrare nei castelli Del vostro stesso livello Perché altrimenti Vi spaccate a bestia Ok Ok Non dovrebbe Continuare a spawnare What the fuck Ok 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 Ce l'abbiamo fatta anche in questo castello Ce l'abbiamo fatta anche in questo castello Sì Ce l'abbiamo fatta anche in questo castello Cioè veramente È fantastico Come gioco A me piace davvero Un fottio Mi piace un fottio Better luck next time Buddy 438 XP 136 coins Qua E 150 gemme Andiamo a vedere adesso un attimo Cosa potremmo acquistare Ovviamente c'è Lo shop Dove cazzo è? Qui Perché l'ho chiuso? Sono gemme Se non sbaglio Queste che si acquistano con i soldi veri Quelli verdi Mentre quelle Sì infatti Le gemme Si acquistano con i soldi veri Ma comunque non è un pay to win Assolutamente no Bisogna giocarci parecchio appunto Per riuscire ad equiparsi bene E sconfiggere i castelli più grandi Vedete qui Possiamo acquistare cose con i soldi che prendiamo nel gioco Quelli che ci troppano gli animali Ovvero possiamo Craftare come si dice su minecraft Queste cose che sono armi Armatura Gioielli E cazzi Buyback Che forse magari puoi ridare indietro quello che ho comprato Non so Non ho la più palla idea di cosa cazzo sia Qui Questo è il nostro inventario Ovviamente possiamo vendere anche un qualcosa Tipo Che ne so Questo lo voglio vendere Lo mettiamo qua E l'abbiamo venduto Ovviamente Possiamo trovare cose a terra di altri player Perché abbiamo Sono sbagliato Abbiamo tre categorie di personaggi Che sono L'arciere Il Il mago E Il guerriero Una cosa del genere Non mi ricordo Comunque ci sono tre differenti player Quindi andiamo a sabotare un altro castello Anche se sta scaricando la videocamera Però non me l'ha fotte niente Onestamente E andiamo a fare Questo castello One giant Eight giants Quindi andiamo ad attaccare questo castello Questo è l'ultimo E poi Vi lascerò A voi Decidere se questo gioco Vale La Vale niente Non vale niente Sono dispesi Perché è un free to play Che è davvero fatto bene Solitamente i free to play Anche se Ormai non è più così Comunque i free to play Ultimamente Stanno sempre più prendendo piede E Devo ammettere che questo È davvero fatto Molto Molto Bene Mi piace un po' Che Devo rire Ok qua ho trovato Tipo una cosa strana Tentrò di farlo Nel modo più rapido possibile Vediamo Allora intanto Qui c'è questo Cosa che Tanto sto giocando Senza un pollice Ricordiamo Oh aspetta Qua abbiamo Una spadata Una spadata in questa maniera Ok Andiamo a calci Tutti Purtroppo ancora Non c'è la lingua italiana Abbiamo Abbiamo solo in inglese L'abbiamo L'abbiamo finito Non ci credo È stato Troppo semplice Infatti no Ancora Dobbiamo Dobbiamo avanzare In questo castellotto Dai Bastante Chiaramente un gioco Cazzo Cazzo Questo è un castello Che eventualmente E ciao ciao Ciao